Ben ritrovati dal vostro Edoardo su Fraternity.it. Oggi è il valore della fede. Eccolo qui. Lo vedete bello, splendente. Ma sentiamo cosa ci dice. Il valore della fede nasce dalla combinazione del valore della volontà che si fonde con la forza propulsiva dell'ideale, simboleggiato da una spirale, a significare che la fede va dritta alla meta senza bisogno della ragione. Chi ha fede ha la spinta necessaria a prendere la giusta direzione affinché il proposito sia raggiunto, attuato e servito senza dubbio alcuno. Come l'arcere che tende l'arco per scagliare con forza il dardo, sapendo già di colpire il centro del bersaglio. Il pensiero seme. La fede è la forza della verità che stende le ali al di sopra della ragione. Che cosa dire di più di questo meraviglioso valore? Ebbene, quel dardo, quel dardo che è scagliato dall'arcere per colpire il bersaglio. E l'arcere sa già che lo colpirà nel centro. Perché lo sa già? Perché, vedete, la fede è un valore magico. Congiunge l'arco e la freccia al centro del bersaglio. Congiunge l'intento alla meta. Ed è proprio una magia questa. Diventa un tutt'uno, senza soluzione di continuità. Vuol dire che lo è già tutt'uno, fin dall'inizio. E questo fa la fede. Dentro di noi ci rende un tutt'uno con il proposito del piano divino e la meta che noi come esseri umani possiamo e dobbiamo raggiungere poiché è già lì ad aspettarci. è quasi un miracolo e in effetti è proprio la magia della fede. Bene, non voglio farla tanto lunga solo che oggi, vedete, sono tinto di turchese come è proprio il valore della fede, quella spirale che dà alla freccia rossa della volontà la forza, la determinatezza di raggiungere il centro del bersaglio, di raggiungere la meta. Questa è la forza della fede, una forza invincibile, incorruttibile ed è nel nostro cuore. Lì ci aspetta, ci aspetta ogni volta che ci ricordiamo di avere fede. Bene, è proprio tutto per oggi e allora buona fede dal vostro Edoardo di Fraternity.it Grazie a tutti!